Due incidenti stradali accaduti nella mattinata di oggi a Fano vedono entrambi il coinvolgimento di ciclisti. Il primo si è verificato alle 7.50 in via Pertini dove in un attraversamento pedonale un undicenne mentre strava attraversando in sela la sua due ruote è stato urtato da una Opel Carle condotta da una donna fanese di 26 anni che era ferma per consentire il passaggio di alcuni pedoni ma che alla ripartenza secondo le prime ricostruzioni avrebbe un urtato la bicicletta. Sul posto oltre al 118 che ha trasportato il minorenne al pronto soccorso di Fano per accertamenti una pattuglia della polizia locale per i rilievi di legge. La stessa pattuglia poi che è dovuta intervenire verso le 13.35 in via Primo Maggio lungo la strada statale in corrispondenza dell'incrocio con viale Cairoli dove una lancia Y condotta da una cinquantenne di Fano che procedeva in direzione Pesero per dinamiche ancora al vaglio della squadra infortunistica della municipale nello svolta a destra avrebbe urtato una bicicletta che procedeva nello stesso senso di marcia con in sella un uomo di 84 anni di Fano portato dai sanitari del 118 anche gli per le conseguenze della caduta ma non in gravi condizioni al pronto soccorso del Santa Croce per accertamenti. Il traffico sulla nazionale data l'ora ha subito qualche rallentamento.